a tutti buonasera per domani avremo tempo variabile in parte soleggiato soprattutto sulla pianura ma a tratti nuvolosità irregolare che potrebbe portare rovesci sparsi alcuni temporali da prima per lo più sui rilievi e poi verso sera locali fenomeni anche in pianura le temperature massime attese da 23 a 26 gradi mentre le minime comprese tra 11 e 15 gradi